Soddisfatti a metà, ma qualcosa si sta muovendo. I residenti della frazione di Pratantico, che tramite la signora Cristina Morra ci avevano chiamate per sollecitare l'amministrazione comunale di Arezzo per aumentare le fermate del bus e sistemare il marciapiede di fronte alla pensilina, in questi giorni assistono ai lavori condotti dagli operai incaricati dall'assessore casi di eseguire un intervento risolutivo e di stabilità sulla sede stradale. Il problema sollevato non è di poco conto perché le radici degli alberi col tempo sono fuoriuscite dal manto stradale rischiando di far inciampare i residenti e poi il marciapiede si presentava pieno di buche e dossi. I lavori quindi proseguiranno anche lungo il marciapiede e lungo la regionale e si prevede anche la sostituzione dei due pini vicino alla fermata perché poco stabili e che quindi saranno sostituiti con due alberature già in stato di crescita avanzata. Sul fronte della giunta di una corsa dopo le 20 l'assessore casi dopo un confronto con Autolinea e Toscane ha specificato che verrà inserita entro l'anno questo almeno è l'auspicio anche se i tempi potrebbero essere più lunghi. Nulla di fatto almeno per ora per il ripristino della linea diretta per l'ospedale San Donato e che costringe i residenti della frazione ad un giro piuttosto lungo fatto di cambi e attese. Grazie. Grazie.